Ciao a tutti, benvenuti su Gossip News Ita, il vostro canale preferito per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie e pettegolezzi del mondo dello spettacolo. Oggi parliamo di uno degli argomenti più discussi del momento, Stefano De Martino e le recenti accuse di tradimento da parte di Belen Rodriguez. Valerio Staffelli ha consegnato a Stefano il tanto discusso tapiro d'oro, e stasera, nel nostro servizio completo, vi sveleremo tutti i dettagli. Ma prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale, lasciare un bel like se siete pronti per il gossip, e commentare qui sotto con la vostra opinione. Stefano affronta le accuse di tradimento, smentisce la storia con Alessia Marcuzzi e difende la sua versione della vicenda. Afferma che l'unico giudice della sua vita è suo figlio e si dispiace per il coinvolgimento di quest'ultimo nelle voci sui social. Come sempre, siamo qui per portarvi le ultime notizie in modo avvincente e informativo. Se state apprezzando il video, ricordatevi di lasciare un like e di condividere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Ora, senza ulteriori indugi, continuate a seguire Gossip e Newsita per tutte le ultime novità. Grazie mille per averci seguito oggi su Gossip e Newsita. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivervi se non lo avete ancora fatto, lasciare un like e commentare cosa pensate di tutta questa storia. Ci vediamo al prossimo video con altre notizie imperdibili. Grazie a tutti.